Sono le 22.41 e ci ha raggiunti, e ne siamo molto contenti, Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, e qui nelle vesti di autore dell'Algoritmo della Vita, Etica ed Intelligenza Artificiale per PM. È un tema enorme, ma del resto chi fa il lavoro suo è abituato a grandi temi difficili da gestire, a cui ci avviciniamo partendo però da una domanda. Quello che anche quelli come me sanno dell'intelligenza artificiale è che la si forma, la si allena, dandole in pasto cose che già esistono, informazioni, dati, la realtà di oggi. Lei dice che le intelligenze artificiali al plurale dovrebbero avere delle basi etiche, ma se, come spesso vediamo, le basi etiche non ce l'ha la realtà, quella che viviamo oggi, la politica, le politiche, anche in questo caso al plurale. Non rischiamo di allenare l'intelligenza del futuro perché producano cose peggiori di quelle che viviamo adesso? Non c'è dubbio, anche perché non è che l'etica è riservata all'intelligenza artificiale. Se ci fosse anche un pochino di etica non ci sarebbe la guerra in Ucraina, non ci sarebbero le guerre in Israele e in Gaza e così le altre 57 guerre che vivono. Qual è il problema? È che oggi, diciamo, la tecnica ha invaso la vita. La tecnica è invasiva, pervasiva ed ha una potenza che prima non aveva. La ultima ondata, le nuove tecnologie emergenti e convergenti fanno parte di questa terza ondata potentissima. Noi siamo per la prima volta nella storia, l'uomo ha il potere di distruggere se stesso il creato, con il nucleare, con il disastro climatico e con il digitale. Con il digitale. Si è usato male, si è usato male. Attenzione però, Monti. Non teme l'accusa, ah siete una chiesa antimoderna che ha paura della tecnologia e dell'innovazione, chi non ha letto il libro magari potrebbe fraintendere e pensare che... Non voglio fare ovviamente l'esaltazione a prendere il libro, però a leggere le prime cinque righe sì, perché io nelle prime cinque righe dico esattamente che la tecnica è un dono, è una potenzialità positiva, perché fa parte della creazione. La scintilla di Dio di cui parla la Bibbia vuol dire... Il primo libro nella Genesi, dove si scrive che il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Lei vede in questo la radice della tecnologia e della tecnica. L'etica è il modo in cui l'uomo si riprende il dominio sulle macchine? Esattamente. Non c'è altra possibilità, proprio perché la tecnica è uno strumento. Quando io invento la clava posso o rompere una noce o rompere la testa a un amico. Dipende da come uso. In questo senso, ovviamente la nuova docologia è un po' più complessa, però resta sempre la dimensione etica e cioè la responsabilità di usare tutti gli strumenti non per combattersi, non per rovinarsi, non per distruggere, ma per costruire una convivenza che sia il più possibile pacifica fra tutti noi. Monsignore, poi Mariana le fa vedere un reperto. Lei ha parafrasato Einstein quando diceva non so come sarà combattuta la terza guerra mondiale e la quarta sarà combattuta sicuramente con la clava. Allora uno potrebbe dire ma questo era il grande dibattito degli anni 60 della guerra fredda, del rischio nucleare, di quella straordinaria cultura di rifiuto prodotto anche dai grandi fisici che condannavano le armi di esterminio. Uno potrebbe dire cosa c'è di più per paglia nel nuovo elemento digitale che innesca e amplifica tutti gli altri. Guardi, io nell'ultima settimana di luglio stavo a Hiroshima a firmare con i capi religiosi del mondo questa carta etica dell'intelligenza artificiale. Una cosa mi ha consolato e cioè che da quel giorno non è mai stata buttata una bomba atomica. 79 anni. Sono gli anni che io compio. E ho detto evidentemente la consapevolezza del disastro ha spinto a mettersi d'accordo. Lo era anche per il clima. Oppenheimer, padre della bomba che fa il giro di conferenze dicendo non usate quell'arma. Esattamente. Ma la stessa cosa era per il clima. Il club di Roma nel 54 disse attenzione Il mondo è finito le risorse sono limitate. Siamo arrivati al 2015 per avere una Parigi del clima. Io dico oggi questa è la terza ondata. Attenzione se non ci mettiamo d'accordo a scrivere delle regole generali il rischio che chi possiede i dati e chi possiede potentissimi mezzi può attuare rischi o conflitti analoghi a quelli nucleari. Ecco perché io mi auguro che la paura del disastro spinga a legiferare. In questo senso con questo libro per esempio vorrei abbiamo già fatto di diffondere in tutte le religioni la consapevolezza nelle università nelle aziende la politica la più refrattaria. Ancora non capisce. Proprio gli altri che ho detto